Vladimir Zelensky è volato a Parigi e Berlino per sollecitare una maggiore assistenza militare e per firmare accordi bilaterali di sicurezza. In agenda anche l'intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Sul campo in Ucraina il momento è critico, la città orientale di Avdivka sta per cadere in mano russa, come dichiarato anche dal portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby. La città orientale di Avdivka è vista come una porta d'accesso alla vicina Donetsk, conquistata dai combattenti filorussi nel 2014 e successivamente annessa da Mosca. Kiev ha inviato ad Avdivka la terza brigata d'assalto.